Siamo qui anche per incontrare i commissari che hanno i portafogli economici perché il rapporto continuo è molto cordiale, molto aperto, continuo e quindi avrò la possibilità in questi giorni di incontrare i vari commissari. Vorrei chiarire che non c'è stato nessun negoziato a Ecofin sulle quote delle risorse che i paesi devono in base a questa misura. Attendiamo il risultato delle proposte tecniche della Commissione per valutare anche le implicazioni in termini di pagamento. Naturalmente ho incontrato molti membri della Commissione sia perché questo fa parte della routine normale sia perché l'Italia è Presidente dell'Unione Europea e quindi parla di cose europee e non solo italiane sia naturalmente perché c'è una nuova Commissione quindi se non altro per una ragione di cortesia. I contatti sono continui e costruttivi. Nella discussione all'Eurogruppo è stato preso atto e all'Ecofine è stato preso atto che nessun paese ha ricevuto indietro dalla Commissione osservazioni sul draft budgetary plan e che alcuni paesi, fra cui l'Italia, nel corso del dialogo precedente alle decisioni del Consiglio ha rafforzato il suo impegno verso il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Quindi tutto è assolutamente la norma, non ha avuto nessun sentore di nulla. L'inchiesta fiscale sul possibile propone qualche problema di credibilità al Vero Presidente della Commissione Juncker? Non penso assolutamente di no. Io interpreto questo fatto, il risultato di un clima in cui c'è molta più trasparenza come dimostrano le decisioni che sono state prese con l'adozione dello scambio automatico di informazioni.